Un paesaggio concettuale di Israele, un'imponente torre metallica di 4 metri, scandita in 12 riquadri che rappresentano le tribù da cui discende il popolo ebraico. È After the Tribes, realizzata da Beverly Barkat, artista di fama mondiale. Siamo qui per celebrare i 70 anni del moderno stato di Israele, ma con la mia opera voglio andare oltre. Le 12 tribù si sviluppano in 3000 anni di storia. Ogni tribù ha la sua terra e io le ho volute collegare alla regione da cui provengo. Noi sappiamo che siamo tutti descendenti di questi mitici 12 tribù ebraiche e questa è la prima volta nella nostra storia qui in Italia che proprio tocchiamo questo punto dell'identità. Curata da Giorgia Calò, promossa dall'ambasciata di Israele in Italia, la mostra andrà avanti fino alla fine dell'anno. L'opera dialoga con gli affreschi della sala del Museo Boncompagni Ludovisi che la ospita, ma dietro a forme e colori dei pannelli c'è molto altro. Ogni opera l'ho realizzata con il materiale presente nel territorio della rispettiva tribù. Ho mescolato i materiali organici, sabbia, argilla, pietre e conchiglie. Così per ciascuna terra ho creato un pallet che identificasse la tribù di appartenenza.